Si allargano le maglie dell'operazione Santa Fe, quella con la quale la procura di Reggio, collaborando con la Guardia Civil Spagnola e la DIA Americana, aveva scoperto un'imponente rete internazionale dedicata al traffico della cocaina. Quattro persone, tutte indagate nel filone originario dell'inchiesta, sono state colpite da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio. I soggetti, Beniamino De Santo, Alessandro Mazzullo, Rosario Rao e Giuseppe Tirintino, sono accusati di far parte del ramo calabrese dell'organizzazione, quello facente capo alle principali indrine della piana di Gioia Tauro, capeggiate dalla cosca Alvaro. La decisione, che ha fatto scattare le manette ai polsi dei quattro uomini, è giunta grazie alle dichiarazioni di altri due indagati, che dopo l'operazione del giugno scorso hanno deciso di collaborare con la giustizia, fornendo agli inquirenti ulteriori dettagli che hanno allargato le maglie dell'operazione e consentito di raccogliere nuove prove e di emettere i provvedimenti di custodia cautelare. Francesco Creazzo per la CNews24.